buongiorno a tutti allora video un po particolare perché oggi è la festa del papà spero che questo video riesca ad andare online prima delle 24 di giovedì 19 marzo che appunto festa del papà e quindi volevo leggervi una cosina veloce veloce da recarsi le orecchie come si suol dire sui papà sui papà in generale sugli uomini con figli il termine esatto ci sono uomini con figli e quindi sui papà purtroppo il mio non c'è più ormai dal 1988 quindi saranno 32 anni ad agosto che mio padre non c'è più quindi ecco così è se se mi pare ormai ci ho fatto l'abitudine adesso è spero lassù con mia mamma visto che mia mamma non ce l'ho più saranno quattro anni a novembre e quindi vabbè vi leggo questa cosa bando alle cose tristi leggiamo anzi leggo non usiamo il plural maiestatis troppo ci suono uomini con figli che faccio tardi che ho calcetto e ci sono papà che spero di tornare presto ci sono uomini con figli che stasera c'è la partita in tv e ci sono papà che chi vuole vedere un cartone animato con me ci sono uomini con figli che finalmente al weekend posso riposarmi e ci sono papà che finalmente al weekend possiamo stare insieme ci sono uomini con figli che tornano dal lavoro che sono distrutto e poi ci sono i papà che mi siete mancati ci sono uomini con figli che basta un cognome per sentirsi padri e poi ci sono i papà che si prendono cura dei propri figli anche se anche se hanno un cognome diverso ci sono uomini con figli che è ma io porto i soldi a casa e poi ci sono i papà che tutte le mattine prima di andare a lavoro è una pagnolata al cuore ci sono uomini con figli che guai a fare le cose da mamma e poi ci sono i papà che si sporcano le mani di cacca e vestiti di vomito il mondo si divide tra quegli uomini che si limitano a mettere due spermatozoi e i papà che scelgono di far parte della vita dei propri figli questo è per tutti i genitori di papà che appunto hanno dei figli e poi ognuno si sentirà nel in quello che è se è un uomo con figli o un papà io purtroppo non ho figli non ho moglie sono single quindi non posso dire nulla ve l'ho semplicemente letto vediamo vediamo una cosa curiosa che ho trovato sul sempre sul web varie faccine che non vi sto a far vedere sulla situazione che stiamo vivendo quindi 15 situazioni diverse sulla situazione che appunto stiamo vivendo con questi vari personaggi con vari nomi scelti a caso quindi nessuno si deve sentire preso in in causa qualora si chiamasse così perché sono nomi presi a caso potrei mettere delle lettere così magari anzi metterò delle lettere la lettera a la lettera b la lettera tanto sono 15 le lettere bastano dirà persona a la persona a come vive questa situazione di essere rintanata in casa c'è la persona a che la vive così era solo un'influenza abbracciato un cinese al momento si trova ricoverato in ospedale persona b se ne frega della quarantena ha la pellaccia dura e domattina sarà sulla pagina dei necrologi quindi praticamente il primo è una persona normale il secondo è un nonno nonno a nonno b nonno b se ne frega poi abbiamo la persona c che è un cliente por nab non esce di casa dall'inizio della quarantena pratica unanismo selvaggio tutto il giorno poi c'è la persona di che è un cinese è due mesi che ha chiuso l'attività da allora nessuno lo ha più visto seriamente che fine avrà fatto poi c'è la persona e ha il reddito di cittadinanza per lui potrebbe essere un giorno come un altro attacca su facebook critica le scelte del governo poi abbiamo la persona f è l'utente 1488 24 ore su cod warzone non sa che giorno della settimana sia non sa se fuori è giorno o notte persona f a casa da scuola tutti i giorni va in giro con gli amici infetto asintomatico letteralmente un super puntore persona g ragazzo di colore gazzo bene bene della mascherina a zonzo tutto il giorno aspetta l'anarchia per darsi ai saccheggi persona h triste perché non può pubblicare nuove foto da tot su instagram ai like alle bambine di giuseppe conte persona i ha pulito 15.000 volte casa non sa più come tenersi occupata ad un passo dalla schizofrenia persona l chiusi in casa con la moglie da due settimane manda continuamente su whatsapp video e meme sul coronavirus non riesce a sopportare più la moglie la denunciata come potenziale infetta persona m stare in casa tutte le sere alle 18 applaude dal balcone come un cretino poi canta bella ciao cioè dice state in casa state in casa poi dopo tutte le sere alle 18 applaude dal balcone come un cretino e canta bella ciao persona n in smart working lavora più di prima ogni giorno esce a farsi due orette di yogi contagerà i genitori persona o esce a ballare per strada flash mob sui balconi invita 10.000 parenti a casa per cena infine l'ultimo chiamiamolo persona s dai fa 20 meme al giorno costantemente informato sul covid 19 vittima di data minima detto questo ditemi voi quale personaggio vi identificate io sinceramente nessuno perché nessuno mi boh io ho le mie cose da fare vivo tranquillo sto in casa ma nessuna di queste o di queste di mi sconquinferà ecco per intenderci diciamo che è una cosa un attimino esagerata sulla situazione però magari qualcuno si identificherà in questo ripeto ho messo le lettere perché siccome ha messo dei nomi non vorrei che qualcuno magari si sentisse preso in causa e non era mia intenzione se invece vi identificate in queste persone la colpa non è mia è vostra che appunto vi state comportando in questa maniera e magari molti si identificheranno in quella che ha pulito casa 15.000 volte perché non sa che cosa fare è l'indisperata una desperate housewife che ahimè rinchiusa in casa non può fare shopping non può fare niente e va in sclero assoluto d'altronde siamo un po tutti in sclero assoluto perché non abbiamo contatti con nessuno oggi sono andato giustamente a fare la spesa eravamo in coda fuori col carrello ci hanno lasciato i guantini da prendere metti i guantini prendi il carrello stai fuori a un metro di distanza ti fanno entrare a due per volta fai la tua spesa buongiorno buonasera ho visto due miei amici li ho salutati a distanza proprio ciao e sono tornato a casa e adesso fino a lunedì 31 credo che non uscirò di casa se non per andare in garage a prendere l'acqua che praticamente è faccio due passi scendo le scale il secondo boss è il mio tiro su prendo l'acqua chiudo il boss vengo su e è finita la mia uscita ah e forse a buttare il pattume che devo solo attraversare il condominio attraversare la strada e poi torno a casa così è se vi pare purtroppo e come diceva nel video che vi ho mandato temo che forse a ferragosto potremmo tornare a fare feste a stringerci le mani forse o forse saremo costretti ancora a stare a distanza auguri auguri fare la tavolata in cui tu sei da una parte dell'altra e dall'altra in fondo come i fratelli coibbra quando mangiavano di baspenza dei terrenzi lì due senza quattro che uno era un tavolo da una parte del tavolo l'altro dall'altro gli portavano le portate e quant'altro ragazzoni detto questo io spero di avermi strappato una risata almeno spero spero mi auguro vista la situazione cerchiamo di sdramatizzare il più possibile anche se purtroppo c'è poco da sdramatizzare però la vita va avanti e dobbiamo cercare di resistere detto questo io vi saluto vi ringrazio francamente resto sempre più preoccupato per una situazione del genere non l'ho mai vissuta in tutta la mia vita e sentendo appunto i video che sta facendo Sara c'è sempre più da preoccuparsi perché uno pensa vabbè sono le sparate di uno ma qua mi sa che c'è molto di vero e poco di falso detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao